Se usi un Matrice 300 oppure un Mavic 3 Enterprise, sai bene quindi DJI Pilot 2 come app preinstallata sullo Smart Controller, sai bene quali sono le difficoltà per riuscire a volare con uno di questi droni su dei terreni inclinati, quindi seguendo quello che è l'andamento del terreno, per riuscire a tenere un GST costante ma anche per ottimizzare la missione di volo. Bene, oggi con UGCS, io sono la versione 4.12.197, si riesce a creare la missione normalmente come si è sempre fatto, quindi ho creato la mia missione su un terreno inclinato e adesso voglio esportarla per volare poi su DJI, con DJI Pilot 2, con il mio Matrice 300 oppure con il mio Mavic 3 Enterprise. È davvero sbalorditiva la semplicità con la quale oggi UGCS mette a disposizione questa feature, infatti basta andare nei parametri della missione che stiamo eseguendo e gli andiamo a dire esporta. A questo punto la schermata è un po' cambiata rispetto a quello che ci ricordavamo, infatti adesso è possibile esportare in JSON, KML o DJI Pilot 2. Quindi clicco su questo bottoncino, vado ad esportare quello che è il mio volo, faccio salva, lo saldiamo qui. Fatto questo non mi rimane altro da fare che andare a collegare il mio radiocomando con DJI Pilot 2 al computer tramite il cavetto oppure semplicemente andare a prendere questo file e portarlo sul radiocomando tramite una chiavetta USB o una scheda di memoria USB. Eccomi quindi pronto per copiare i file, sono in due cartelle, ecco che il mio radiocomando comincia a dare segni di impazienza. Allora prendiamo il nostro file e lo copiamo banalmente su quello che è il nostro disco esterno. Questo disco lo trasportiamo adesso nel radiocomando e ci spostiamo lì. Pronti per volare o per caricare la nostra missione? Flight route, KMZ Import, lo selezioniamo dalla scheda esterna, eccolo lì, Test Pilot 2, viene caricato. Adesso andiamo a vedere cosa ha combinato.